Comunque sì, un Parlamento, devo dire, anche mi ha commosso perché... Allora, questo è un bunker anti-atomico e anti-chimico, da Fabio Mengero al Terzo... Poi non lo sapevamo, sono andati al tiranno, sono andati al tiranno, sono andati al tiranno... E alcuni sono legittimali a 78, 24... Quelli 135.000 sono, quelli a forma di... Eh, quei bunkerini, eh, sì, sì, sì. Tra l'altro ti faccio... Questa è la mappa di bunker, vedi? Ogni pallino neo era uno, due erano costretti. Sì, sì, c'è anche dentro, c'è anche dentro. Questa è la mappa... Grazie.